Prima di tutto mi presento, io sono quello che dovrebbe fare il moderatore dell'incontro, mi chiamo Bruno Piotti e sono un medico di sanità pubblica in pensione. Questa iniziativa che come vedete si intitola e lo avete visto anche nella locandina che è circolata il consultorio familiare ieri, oggi e domani, come si integra il consultorio familiare nel nuovo modello di medicina territoriale. È un incontro che ci sta veramente molto a cuore, noi come organizzatori. Gli organizzatori sono, come potete vedere, il circolo culturale Lo Zenzero e lo SPI CGL della Lega Valbisagno, Bassa Valbisagno e l'Ecoistituto che è un'organizzazione con una vocazione ambientalista. Bene, abbiamo invitato, abbiamo pensato di cercare di avere un punto di vista sia di come sono nati i consultori, quindi un punto di vista del passato, sia un punto di vista del presente e quindi abbiamo invitato, qui passo a presentare, Ernestina Carta, ginecologa alla destra. È attiva da molti anni nel consultorio Aied di Genova. Laura Battaglia, che è la responsabile facente funzioni dei consultori dell'ASLA numero 3 di Genova. Elisa Ivaldi, che è giovane, come vedete immediatamente, ed è una delegata CGL bancaria, che ci porterà il punto di vista appunto di una giovane utente. Infine, collegata a distanza, lassù, per ora non molto visibile, ma poi sarà visibile molto meglio, c'è una dottoressa che è la responsabile del consultorio salute donna dell'ASLA di Reggio Emilia. Noi abbiamo molto a cuore questa continuazione di un'abitudine che è quella di discutere di ciò che avviene qua nella nostra ASLA o nelle ASLA vicine, per esempio abbiamo invitato l'ASLA numero 1, rappresentanti degli infermieri di comunità dell'ASLA 1, quindi dell'ASLA Liguri, però di parlare, di cercare di fare un dialogo anche con persone che vengono da altre esperienze, in questo caso l'Emilia Romagna, Reggio Emilia. Bene, io prima di dare la parola andremo se vi va bene, Ernestina parlerà per prima, Laura Battaglia per seconda, tu per terza e Daniela Bertani per quattro. Prima di dare la parola, voglio dire che prima di tutto questo incontro si inquadra negli incontri che abbiamo fatto, questo è l'ottavo, in particolare nell'arco, nel contesto del fronte comune Ligure per la salute, cioè questo malessere profondo che noi riteniamo stia non solo colpendo duramente i cittadini e coloro che hanno bisogno dei servizi, ma che è indebolimento dei servizi molto di fondo, in questo contesto noi parliamo anche come fronte comune Ligure, che è questa alleanza tra comitati di base, di quartiere, organizzazioni di volontariato, sindacati e partiti del centro-sinistra e dell'opposizione. Allora, che cosa volevo dire proprio come brevissima introduzione a questa cosa? Volevo riferirmi a dei dati, perché stiamo vivendo un mondo, in particolare una situazione dei media piena di bugie e di invenzioni. Volevo riferirmi a dei dati. Maria Teresa, puoi proiettarmi questo dato? Arrivo. Che è molto semplicemente, quello che voglio farvi vedere, è che questo dato, che viene dalla relazione ufficiale del Ministero della Salute con dati Istat, è il periodo a cui si riferisce, il 1978 sino al 2021, cioè i dati sono del 21 e la relazione del 22, è stata presentata dal Ministro Schillacci. Potete vedere che l'andamento di quella linea azzurra che rappresenta il rapporto di abortività, cioè le interruzioni volontarie di gravidanza per 100 nati vivi, ha avuto un andamento a crescere all'inizio, 1978 è ovviamente l'anno della 194, quindi l'anno di inizio, e poi dopo essersi innalzato ha avuto una curva continua a scendere, tanto è vero che nel 2021, che è l'ultimo dato, abbiamo 15,9 di abortività su 100 nati vivi, che poi si collega anche al tasso di abortività, che però è fatto non per i nati vivi, ma tra la relazione delle interruzioni volontarie di gravidanza come denominatore le donne in età fertile, le 15-49 anni, avete visto che tutte e due inequivocabilmente scendono. Questo per dire che non siamo in una situazione di emergenza, questa è una pura e semplice bugia, siamo al contrario in una curva discendente del tasso di abortività che è consistente da 10-20 anni in direzione verso il basso, e questo tra l'altro allinea la situazione dell'Italia a quella del resto dei paesi dell'Europa. Maria Teresa, mi dai anche la seconda? È accompagnata ad un andamento delle nascite, vedete le nascite sono quella linea verde, mentre i morti sono la linea rossa. Le nascite, se vai un po' più in giù se se la fai, abbiamo qui un arco di tempo ancora maggiore, e poi una proiezione, quindi non andiamo nella proiezione, non ci interessa per il nostro discorso, restiamo alla linea continua che si ferma al 2020, vedete che siamo sui 400.000 nati all'anno, e tra l'altro nel 2023 erano 379.000. Quindi come dire, anche in questo caso noi abbiamo una tendenza, lo sapete bene, una tendenza a scendere. Ora, la relazione tra le due cose è ovvio che esiste, perché i nati vivi saranno meno, visto che ci sono meno parti e meno nati vivi, però il tasso di abortività è una relazione tra i due. Quindi sì che abbiamo sempre meno natalità in Italia, e infatti la curva della popolazione tende a scendere, ma l'interruzione volontaria di gravidanza è relativa ai nati vivi esistenti. Quindi anche se le donne hanno la tendenza a partorire meno, la interruzione volontaria di gravidanza è comunque in discesa. Quindi questa è la prima cosa che volevo trasmettere, la seconda cosa che voglio trasmettere non è una diapositiva, non è un dato, è una considerazione che penso che sia fondamentale. I consultori sono nati in un momento in cui c'era un movimento sociale, sindacale, politico straordinario, che erano gli anni 70. Anni d'oro di entusiasmi e di mobilitazione. In questo contesto i consultori sono stati sinceramente un punto di arrivo molto significativo per i diritti delle donne. E che cosa dobbiamo dire? Ma proprio ad un'analisi superficiale, poi vedremo dalle vostre presentazioni verranno chiarite altri aspetti. Ma non c'è dubbio che sono nati perché il Comune, quindi la rappresentatività e la delega politica rappresentativa, il Comune e l'assessorato, il Servizio Sanitario Nazionale, quindi gli operatori tecnici, quindi l'equivalente degli operatori sanitari di oggi della ASL numero 3 o 1 o quant'altro. E la popolazione rappresentata in forme anche molto significative, sino al punto che nei consultori all'inizio avevamo dei comitati per i consultori, con una partecipazione diretta della popolazione dove il consultorio era collocato, che aveva un significato di presenza nella gestione. Quindi al di là della capacità tecnica che il consultorio ha espresso in quegli anni 78-80, c'era una partecipazione popolare dal basso di rappresentanza di volontari, ma anche di categorie, donne sindacalizzate, donne non sindacalizzate, donne politicizzate, donne non politicizzate e naturalmente volontari di associazioni come oggi possono essere quelli del terzo settore che sono gli organismi. Ecco, a noi pare che questo momento magico, che naturalmente non è continuato purtroppo con questa, come dire, consistenza, è ancora alla base, con questa triade della Comune, della ASL e della partecipazione popolare, è ancora un punto di riferimento di quello che vogliamo creare, le case della comunità. Le case della comunità e l'attuazione del decreto ministeriale 77 del PNRR. Bene, detto queste cose, forse sono stato leggermente lungo, ma mi pareva importante ricordarle, darei la parola a Ernestina Carta. Allora, vi do il microfono perché siccome parliamo a distanza, bisogna che tutti parli nel comitato, ma anche quelli che vogliono raccontare a me dire, per farmi vedere il mio sentimento di un dato e il mio sentimento. Bene, buonasera. Sono molto contenta di partecipare, ma si sente? Va bene? Sì, va bene. Va bene. Va bene? Ok. Allora, dunque, come si dice, ha introdotto Bruno, non possiamo parlare dei consultori o della legge che è stata fatta nel 1975 senza inserirla in una situazione politica molto particolare. erano gli anni, appunto, come diceva Bruno, di molto fermento politico, sociale, sanitario anche. La sanità in quegli anni passava per la prima volta ad una forma di prevenzione piuttosto che di cura e la tensione che c'era nelle donne e nelle femministe o comunque nei gruppi di donne che facevano del volontariato o andavano, insomma, voglio dire, facevano dimostrazioni o altro, tutto questo mobilitò proprio anche lo Stato nei cambiamenti. Una cosa importante è successa nel 1971. Metti la prima diapositiva, per favore? Nel 1971 la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge del Codice Penale, la 553, che vietava, tra l'altro, la propaganda degli usi dell'anticoncezionale. In contemporanea, però, rimaneva la 552, che vietava interventi anti ad essere una persona impotente alla procreazione. Quindi non potevi dare un contraccettivo perché ti portava ad avere l'impossibilità di procreare. Tutto questo portò poi lo Stato a fare questa legge, la 404 del 1975, e che abolì entrambe le norme. Allora, però, per arrivare a questo punto, come mai la Corte Costituzionale a un certo punto rende illegittime queste due leggi? Questa legge, soprattutto la prima, la legge del Codice Penale. Perché in quegli anni c'era un'attività sociale, devo ricordare l'Aied, l'Aied per cui io lavoro, che era nato addirittura nel 1953, quindi in un periodo post bellico, quando la gente lavorava soprattutto nelle campagne. C'era una grande nascita, un grande aumento della popolazione e una grande richiesta di aborto clandestino. E quindi l'Aied che nasce in quegli anni nasce soltanto con un principio, come dire, soltanto di persone che avevano, la consideravano proprio una forma di carità, di aiutare queste persone che sono le più povere, propagando i contraccettivi, distribuivano addirittura spermicidi e contraccettivi, come si chiamano, i condom, insomma, sì, i preservativi, i condom, li portava nelle zone più povere, quindi nelle zone di campagna, queste donne che avevano abortito. Allora, che cosa succede? Che chiaramente c'erano anche delle riunioni per informative sulla contraccezione e a questo punto alcune persone dell'Aied vengono anche arrestate. E non solo quelli dell'Aied, perché non potevi propagare gli anticontraccettivi, no? Vengono arrestati e uno dei giudici, forse della Corte della Corte dell'Assise, diceva, ma qui io non posso giudicare una cosa che non è più costituzionale questa e quindi ci dobbiamo rivolgere alla Corte Costituzionale. Così nel 71 venne abolita questa legge. C'erano state anche delle altre cose, devo dire l'Assemblea dell'OMS e il Consiglio d'Europa aveva detto che gli stati dovevano assolutamente fare qualcosa per propagare la contraccezione e quindi la legge, lo Stato italiano decide dopo lunghe discussioni di fare questa bella legge del luglio del 405. Un numero 405 del luglio del 75. Dunque la legge è un po' particolare perché porta a una... si occupa della salute e della protezione, diciamo, della maternità e della paternità responsabile e si devono anche occupare di problematiche minorili. Saranno le singole regioni che dovranno però poi occuparsi di queste forme, le norme legislative e dovranno quindi le regioni facendo il conto dei singoli comuni e delle province programmare poi la legge vera e propria. Scusate, vabbè, niente, ho lasciato il cellulare che mi... Scusate, non è il mio? Ah, ecco allora, no scusate, ho lo stesso squillo, pensavo che se il mio non l'avevo silenziato, allora scusate un secondo, che comunque facciamo... Mi fa lavorare? Ok, a posto, continuiamo. E quindi niente, qui avete la legge, il finanziamento sarà assolutamente statale, però la legge non dà delle precise norme, ti dà delle indicazioni particolari e in base a quelle ogni singola regione, vedendo anche le situazioni del proprio territorio, si occuperà di fare la legislazione, la singola legislazione. Cosa succede? Che dal 75 passano un po' di anni, 77, 76, 77 cominciano le varie regioni a fare le leggi. A Genova, siccome la legge è arrivata nel 77, la legge regionale delle istituzioni e dei consultori, nascono i consultori autogestiti, che sono alcuni consultori, uno ce n'è particolare nel centro storico, che nasce come medicina popolare, autogestita, è una cosa di quartiere, ecco, e si occupa di informazioni, di assistenza delle donne, di informazioni contraccettive, addirittura ha degli spazi per poter fare delle riunioni e dà informazioni sulla contraccezione e sull'aborto. Non hanno mai eseguito gli aborti in questi centri, di questi consultori autogestiti. C'era il CISA che funzionava in Genova, in quel periodo il CISA si occupava proprio di informazioni per la contraccezione e anche gli aborti, grandi aborti, insomma. Allora, volevo dire ancora due cose, ecco, perché ce n'è uno particolare, questo consultorio di Sestri e Cornigliano, è fatto dalle donne operaie, e loro hanno come prima cosa una struttura sociale che è stata, hanno creato dalla villa Narizzano, la villa Narizzano, questo con il salario sociale, che era una cosa un po' particolare. Il salario sociale era dato un po' in parte dall'azienda, in parte era dello stipendio di Zicoli e doveva essere utilizzato per fare delle cose territoriali che servissero a tutti. e le donne riescono in questa villa a prendere alcune stanze del pian terreno in modo da fare un consultorio e lì vengono fatte, hanno anche delle persone, dei volontari, dei medici volontari, fanno soprattutto prevenzione, cura, prevenzione, pap test, tumore al seno, eccetera, e hanno anche delle riunioni che prima dovevano essere solo per loro, poi diventano aperte a tutti quanti. A questo punto passiamo invece alla legge regionale. Allora, la legge regionale della Liguria è un'ottima legge, devo dire, perché è una legge che parte e viene anche mossa da dei gruppi, dei movimenti che hanno piuttosto potere a livello politico locale e sono la medicina democratica, sono i psichiatri democratici, sono i gruppi delle donne, i movimenti femministi, i movimenti delle assistenti sociali. Allora, per ogni consultorio, i consultori verranno, diciamo, sistemati, ogni centomila abitanti, ci sarà un consultorio, e loro avranno, questi consultori, anche una forma di personale, di gruppo, di comitato di partecipazione e questo comitato di partecipazione dovrà occuparsi della programmazione annuale dell'attività del consultorio. Del comitato di partecipazione i vari gruppi organizzano anche in comune dalla possibilità che vengano fatte delle mini elezioni nei quartieri in modo che parte dei comitati ci sia presenza dell'utenza. Quindi ci sono proprio gli utenti del consultorio che faranno parte della programma, insomma, organizzeranno la programmazione annuale del consultorio. La programmazione viene poi presentata all'equip del consultorio, i medici, gli assistenti sociali, eccetera, e come ci diceva Calbi che invece di ridurre il programma l'aumentavano, quindi alla fine diventavano sempre dei mallopponi di roba da fare, si passava al comitato di gestione e il tutto finiva poi sul tavolo dell'assessore che doveva anche finanziarlo. Quindi ogni anno c'era la programmazione delle cose future. la firma dell'assessore era assolutamente importante. Allora, altre cose, vediamo un po', non mi ricordo l'altra diapositiva, ecco, per concludere banalmente. Per concludere, quindi, nel 1981 cominciano a comparire le USL, quindi le unità sanitarie locali, e loro hanno, riprendono in effetti in parte l'attività dei consultori, cioè il consultorio diminuisce un po' l'attività che faceva e quindi a questo punto diventa più un ambulatorio medico. Vabbè, comunque, non è che è cambiato molto. In quegli anni ancora viveva per bene il consultorio. Ecco, un'altra cosa di particolare c'è che la 405, la 405 sembrava all'inizio forse più una vittoria, no? delle comunità femminili, delle donne, eccetera. Invece, più di che occuparsi della donna, si occupa della famiglia. Non so, forse qualche donna ci è rimasta male per questa cosa, ma comunque, diciamo che comunque è stata un'ottima legge. Ecco, almeno siamo arrivati ad uno Stato che prende possesso della salute della donna e non è più fatta dal volontariato, ma lo Stato si deve prendere cura di quello che è la donna. Un'altra cosa volevo dire, in effetti nei consultori a quel punto, in quegli anni lì, i minori non potevano entrare, dovevano essere sempre accompagnati, quindi fino alla maggiore età che in quegli anni cominciava a essere diciottenni, dovevano essere sempre accompagnati. Hanno cominciato a poter entrare da soli i minori dopo la 194, quindi nel 78, quando la legge, quando lo Stato ha fatto la legge per l'interruzione di gravidanza. Ok, quindi è stata un'altra vittoria, un'altra apertura. Bene, direi che ho finito. ringrazio, sì, solo passare il microfono a Laura Battaglia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io mi chiamo Laura Battaglia, sono una psicologa, psicoterapeuta. da quasi un anno, adesso sto facendo il ruolo di facente funzione come responsabile dei consultori di ASL e 3 Genovese. Comunque, lavoro da 35 anni e mezzo in consultorio, quindi conosco bene la storia del nostro servizio. il consultorio diciamo è nato come servizio che doveva essere soprattutto di prevenzione, quindi di presa in carico sicuramente della delle difficoltà che può avere una donna o comunque delle esigenze che può avere una donna, una famiglia o un bambino e ha lavorato, doveva lavorare soprattutto a livello preventivo. Nel corso degli anni sicuramente la tipologia dei consultori è un pochettino mutata come diceva la dottoressa Carta pur conservando poi alcuni aspetti che lo caratterizzano ancora oggi come un servizio rivolto alle donne, in primis alle donne poi alle famiglie e anche ai minori. Quindi è un servizio fatto di tante professionalità però è rivolto anche a una gran parte della della popolazione. Allora nel attualmente il consultorio i consultori di ASL3 sono 15 a fronte di vi faccio un po' il paragone nel 2011 il consultorio erano 27 il consultorio di di ASL3 comprende una popolazione di più di 600.000 abitanti perché comprende tutto il comune di Genova più 39 comuni extraurbani che vanno quindi da Camogli a Cogoleto con tutto l'entroterra quindi insomma i comuni sono tanti la popolazione è tanta una volta diciamo anche nei paesi più piccoli era presente un presidio consultoriale adesso purtroppo in diversi diversi paesini magari più piccoli sono un po' sono andati a a diminuire quindi io ho scritto la nostra relazione di attività del 2023 e ho scritto che erano 15 le sedi attualmente le sedi dei consultori in questo momento sono 14 perché nel frattempo purtroppo la sede di Via Sarotti è stata momentaneamente chiusa come consultorio perché ci sono i lavori del PNRR per cui per un anno e mezzo non ci siamo più in Via Sarotti vabbè però spero che sia una cosa una cosa solo momentane però sicuramente insomma una diminuzione c'è stata c'è stata una diminuzione anche sicuramente del personale ci sono stati anche dei grandi cambiamenti quando sono stati istituiti i consultori all'inizio quindi che c'erano i comitati di gestione anche molto attivi a livello comunale eccetera nei consultori c'era anche un nucleo di valutazione anche di riabilitazione cioè era presente anche la neuropsichiatria infantile all'interno di questi di questi comitati di gestione eccetera e noi abbiamo avuto questa questa strutturazione fino al 2019 cioè i neuropsichiatri erano all'interno della nostra della struttura consultoriale che era una struttura complessa poi nel 2018 sono stati divisi quindi in due strutture semplici dipartimentali una è diventata struttura semplice dipartimentale all'interno del dipartimento materno infantile che era il consultorio e la neuropsichiatria infantile invece è afferita al dipartimento di salute mentale al dipartimento di salute mentale quindi c'è stato un cambiamento adesso il nuovo piano socio-sanitario prevede che il consultorio a brevissimo ridiventerà di nuovo struttura complessa perché in effetti comunque pur essendo diminuito il numero degli operatori eccetera il consultorio comunque ha quasi un centinaio di operatori quindi insomma è una struttura comunque abbastanza grossa quindi insomma poi chiaramente non si possono paragonare dei servizi che magari fanno parte di ASL molto più piccole ai servizi che sono presenti in ASL 3 che è una delle più grandi ASL d'Italia va bene attualmente che cosa facciamo all'interno del consultorio facciamo intanto siamo molte figure professionali perché ci sono i ginecologi a livello medico ci sono i ginecologi pediatri e poi abbiamo gli psicologi come figure diciamo più dirigenziali poi ci sono molte ostetriche le assistenti sociali le assistenti sanitarie e anche qualche educatore professionale dico qualche perché nel frattempo sono andati in pensione e purtroppo non sono non sono stati sostituiti al momento quindi così tante figure professionali diciamo perché una caratteristica del consultorio qual è sempre stata quella è stata quella del lavoro di equip cioè il consultorio è nato proprio come un posto dove la donna in primis poteva andare e trovava un team di persone che poteva aiutarla a trovare delle risposte di vario tipo sanitario ma anche di tipo sociale ma anche di domande rispetto non so ai figli rispetto alle problematiche che poteva trovare nel rapporto col marito cioè era un po' era nato un po' come equip che si prendeva cura di questa valenza multidisciplinare diciamo è rimasta attualmente quindi come lavoro di base quindi in tutti i consultori troviamo il ginecologo e l'ostetrica che gestiscono soprattutto la parte quindi ostetrico ginecologica poi troviamo lo psicologo e troviamo anche il pediatra che ultimamente si occupa soprattutto delle vaccinazioni dei bambini 0-12 mesi quindi questa è un po' l'equip minimale di base poi il consultorio si occupa anche del percorso nascita noi cerchiamo di mantenere il nostro taglio di prevenzione proprio attraverso il supporto alla gravidanza e alla natalità quindi aiutare anche la costituzione delle famiglie facendo il percorso in nascita quindi che vengono fatti sia dalle ostetriche che dai pediatri che dai ginecologi eccetera ovviamente nel consultorio c'è anche l'applicazione della legge 194 sia per quanto riguarda le persone maggiorenni che minorenni quindi questo è un altro sicuramente compito del consultorio poi i consultori genovesi hanno tutta un'altra serie di prestazioni per la popolazione che sono più collegati a centri sovrazzonali quindi abbiamo io sono responsabile proprio di quello il gruppo che si occupa di maltrantamento e abuso in danno di minori ma anche in danno delle donne poi abbiamo il laboratorio dei conflitti che si occupa della mediazione familiare per quanto riguarda il favorire una buona separazione soprattutto appunto quando ci sono i figli per riuscire a rimanere dei buoni genitori nonostante la rottura della coppia poi abbiamo il nucleo adozioni affidi in cui collaboriamo col tribunale e facciamo la valutazione delle coppie che si candidano all'adozione e poi l'affiancamento al post-adozione e poi abbiamo istituito da poco dalla scorsa estate un piccolo gruppo di colleghi che fanno proprio terapia della famiglia quindi sono sei colleghi di orientamento sistemico che fanno proprio un lavoro di terapia della famiglia altro ruolo che ha il consultorio a livello preventivo è un lavoro di collaborazione con il nucleo di prevenzione dell'igiene che è un lavoro di educazione all'affettività educazione a corretti stili di vita che viene fatto dal nucleo salute e scuola quindi in prevalenza da assistenze sanitarie da qualche medico scolastico che ancora è figura residua non sarà sostituito ma per il momento ne abbiamo ancora tre e quindi fanno diciamo questo lavoro di formazione alle insegnanti e anche agli alunni e ai genitori nelle scuole un grosso lavoro che viene fatto dal consultorio è quello che ci viene richiesto dal dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni è la presa in carico delle famiglie più fragili però è anche diciamo ci viene richiesta poi una collaborazione con i servizi sociali del comune di Genova e dei comuni limitrofi che ci occupa molto perché purtroppo le famiglie sono molto in crisi e quindi il ricorso al tribunale agli organi giudiziari sta diventando sempre più frequente diciamo che noi cerchiamo di fare un po' di dare delle risposte a dei bisogni sanitari delle donne delle famiglie e cerchiamo però di non perdere del tutto il nostro ruolo di prevenzione e di 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 esserci per la popolazione che ci fa che ci fa delle richieste scusate mi stavo non dimenticando ma abbiamo due centri giovani che sono una fiumara e uno in via rivoli a cui possono accedere i giovani dai 14 ai 21 anni e che possono usufruire della figura del ginecologo o dello psicologo una cosa che secondo me vale la pena di dire è che tutti i servizi del consultorio al momento non c'è nessun pagamento di ticket quindi sono tutti ancora servizi gratuiti e credo che questa comunque sia una cosa importante perché noi vediamo che per le famiglie tante volte che seguiamo noi che sono molto in difficoltà anche pagare 35 euro o 36 di ticket magari a volte li induce a non andarla a fare una visita specialistica quindi il fatto che il nostro servizio continui ad essere un servizio gratuito questa la trovo una cosa una cosa positiva rispetto alle io guardavo appunto i dati del 2023 che sono confrontati con quello del 2022 anche per quello che riguarda noi per esempio le interruzioni di volontà di gravidanza che sono afferite al consultorio come numero sono diminuite mentre sono aumentate molto le richieste di prestazioni psicologiche sia per quanto riguarda i minori sia per quanto riguarda le famiglie quindi noi vediamo veramente una famiglia che è che è molto molto in crisi quindi una difficoltà anche ad esercitare diciamo in modo responsabile corretto la genitorialità per tutta una serie di vari problemi che sono economici che sono sociali che sono di grossa solitudine dei nuclei dei nuclei familiari eccetera un'altra cosa che che volevo dire è che quindi le prestazioni sono sicuramente aumentate in totale ma con queste con questi due picchi in particolare quindi le richieste sull'intervento psicologico e poi abbiamo implementato un nuovo servizio che è rivolto alle donne a domicilio quindi un servizio di home visiting delle ostetriche quindi in caso di gravidanza o di diciamo dopo la nascita del bambino su richiesta della mamma che può mandare una mail semplicemente o telefonare un ostetrica va a domicilio e fornisce proprio un servizio per qualche incontro come sostegno all'allattamento come sostegno alla maternità in generale ovviamente l'ostetrica va a casa poi se si rende conto che il problema può essere non so più di tipo psicologico eccetera cerca di fare l'invio della donna allo psicologo però io trovo questo è un servizio che ha avuto un'impennata di richieste e abbiamo molti riscontri positivi da parte della popolazione perché le donne che partoriscono spesso magari si trovano se non hanno la famiglia vicina oppure si trovano in una situazione di solitudine il fatto che ci sia qualcuno che si occupa di loro e che è del loro bambino e che non si sentano proprio sole l'abbiamo trovata una cosa una cosa molto importante quindi da una parte abbiamo delle cose positive e dall'altra abbiamo sicuramente delle cose una diminuzione di sedi e di personale che sicuramente c'è ma insomma cerchiamo di non far perdere al consultorio il suo la sua grande il suo grande valore secondo me di servizio di riferimento per la donna e per la famiglia e per la prevenzione grazie grazie dottoressa adesso poi su questo quadro ci saranno delle domande e delle osservazioni ma prima di tutto passo la parola a Ivaldi giovane utente che ci farà sentire il punto di vista dei bisogni della vostra età e della vostra dimensione grazie buonasera a tutti io sono Elisa Ivaldi e sono in rappresentanza diciamo dell'utenza sono una delegata FISAC CGL dei bancari e ringrazio per questa opportunità che mi è stata data di presenziare e di dire la mia in questa in questa riunione e in questa sede e innanzitutto appunto io sono bancaria quindi non sono del settore come appunto le dottoresse che hanno appena parlato però quando mi è stato proposto di venire diciamo e di poter fare il mio discorso sono stata subito molto contenta perché ci tenevo a dire la mia sull'argomento io noto soprattutto soprattutto per la mia generazione un vento di cambiamento in questo periodo un vento di cambiamento negativo perché c'è una decadenza di diritti in generale e quando c'è questa decadenza di diritti chi ne fa le spese proprio per prima sono le donne come sappiamo quindi sono preoccupata anche perché spesso la mia generazione da per scontati dei diritti che invece sono stati conquistati dalle generazioni precedenti con appunto manifestazioni facendosi sentire invece adesso è tutto diciamo ce lo stiamo trovando tutto fatto ma non è così perché purtroppo si può tornare indietro e sono preoccupata anche per la legge che è passata per la presenza dei provita all'interno dei consultori e degli ospedali perché voglio dire una donna che decide di interrompere una gravidanza non lo fa mai a cuor leggero ovviamente ha preso questa decisione con molto dolore quindi pensare che una donna una volta deciso insomma possa andare in un consultore in un ospedale e trovarsi davanti appunto queste persone che possono in qualche modo fare della violenza perché secondo me è comunque violenza e come è uscito sulla Repubblica proprio ieri che appunto c'erano queste due persone al Villa Scassi provita e una donna è andata per cercare di fare interruzione di gravidanza e le hanno proposto 100 euro per non abortire ovviamente a parte la generosa offerta è avvenuta dopo una lavata di capo perché la donna continuava a essere della sua idea continuava a dire ho deciso così e invece alla fine dopo discussioni l'hanno fatto questa proposta quindi io penso che veramente una cosa così sia un segnale d'allarme e poi i consultori appunto non servono solo per questo per abortire ma servono anche per avere delle informazioni quando pensavamo facevamo questi discorsi anche con Patrizia ci veniva in mente ad esempio le informazioni se possono anche avere due persone dello stesso sesso sulle magari le malattie sessualmente trasmissibili è ovvio che se vanno in consultorio e appunto trovano in provita è una situazione alquanto sgradevole direi è invece il loro diritto sapere ed avere informazioni su queste cose anche perché si parla di salute quindi sono argomenti seri poi detto questo io penso che il progresso passi anche dalla distribuzione degli anticoncezionali gratuiti in modo che appunto le persone siano anche informate su questo e soprattutto è molto importante secondo me è un'informazione all'interno delle scuole io sono giovane ma non giovanissima nel senso che le superiori le ho finite da un po' e però non ricordo nessun tipo di intervento nessun tipo di formazione nessun tipo di dialogo o di riunione su questi argomenti quindi per me questo è una delle parti fondamentali poi magari negli anni le cose sono cambiate però ho letto stamattina di quella ragazzina che ha partorito a Villa San Giovanni che ha 13 anni e ha lasciato il bambino sugli scogli dentro uno zaino quindi questo mi fa credere che probabilmente non c'è nessun tipo di informazione perché qua le vittime sono due la bambina e l'altra bambina perché 13 anni si è bambini quindi anche questo veramente mi ha fatto riflettere e poi io ovviamente guardando i social perché sono nata con i social e purtroppo per fortuna sfoglio sempre facebook instagram e tutte le varie notizie ogni volta che trovo qualcosa ad esempio l'altro giorno ho trovato un video di una dottoressa che appunto faceva vedere come impiantare il bastoncino io lo chiamo bastoncino però sottocutaneo esatto l'impianto sottocutaneo che tra l'altro per diverse motivazioni ho provato anch'io quindi come e sotto questo video che in teoria doveva essere un video informativo per una cura alternativa c'erano tantissimi commenti di odio commenti di odio commenti proprio medievali addirittura c'era una mamma che chiedeva per la figlia per avere informazioni perché la figlia non tollera la pillola anticoncezionale quindi cercava un metodo alternativo che non potesse farla star male e sotto questo commento un signore di mezza età guardando dalla foto ha risposto la ragazza si vuole divertire questo è stato il commento di questo signore quindi poi non ho fatto neanche in tempo a leggere gli altri perché poi sono arrivati altri commenti che hanno fatto andare sotto la richiesta di informazioni quindi probabilmente la dottoressa che ha messo il video poi non avrà risposto perché è stata diciamo invata da commenti negativi e la stessa cosa vabbè ho visto anche un video di fanpage proprio su facebook sempre dove appunto intervistavano diverse ragazze che hanno dovuto fare l'interruzione di gravidanza una ragazza perché appunto ha fatto un aborto terapeutico perché il feto era mal formato quindi comunque avrebbe avuto dei problemi e invece un'altra ragazza ha deciso che non era momento per la gravidanza una ragazza in particolare ha fatto l'interruzione di gravidanza durante il covid e ha raccontato che non poteva entrare nessuno all'interno del reparto perché era in emergenza sanitaria l'unica persona che è entrata in quella sala è stato un frate e quindi ha iniziato a parlare con tutte queste persone che erano in attesa di fare l'interruzione volontaria di gravidanza anche lì lei ha detto sinceramente non essendo personale sanitario tra l'altro ha fatto anche scalpore perché ha iniziato a parlare a cercare di convincere tutte quelle persone che erano lì a cambiare direzione anche se loro la decisione l'avevano già presa quindi tutte queste esperienze ad esempio la ragazza che ha dovuto fare l'aborto terapeutico è stata chiamata assassina cioè c'è sempre una violenza dietro e queste donne portano veramente un peso nel cuore perché non è una cosa facile è una cosa pensata è ragionata e c'è comunque un dolore anche chi lo fa perché non se la sente di portare avanti la gravidanza un'altra testimonianza della terza ragazza diceva che comunque lei ha un dolore nel cuore e ha comunque costanti attacchi di panico ed è in cura appunto da una psicologa perché comunque questo dolore è rimasto io concludo brevemente dicendo appunto che effettuare un'interruzione volontaria di gravidanza o decidere di affrontare una gravidanza è e deve rimanere una decisione della donna è un diritto e così deve rimanere senza condizionamenti esterni da nessuno grazie di questa grazie di questa testimonianza Elisa bene prima di dare la parola al pubblico qua presente invito Daniela Bertani che vi ricordo è responsabile del consultorio salute donna della Ausl di Reggio Emilia che abbiamo invitato a distanza a fare il suo intervento Daniela a te la parola bene adesso io appunto mi presento sono la direttrice del consultorio della provincia di Reggio Emilia che chiaramente ha delle differenze strutturali sia come provincia sia come azienda e anche come regione la provincia di Reggio Emilia è costituita sono 528 8000 abitanti tutta la provincia la differenza e giusto forse perché è più del settore la mia azienda ha visto ormai qualche anno fa la fusione fra l'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria locale territoriale e chiede il ramo sa che una fusione di due aziende ospedaliere territoriali qualcosa vuole dire fondamentalmente quindi siamo diventati un'aziendona un'aziendona di 7500 dipendenti con i pro e i contro di questa fusione la mia struttura è diventata struttura complessa in tempi recenti e ha fuso in sé tutti i consultori della provincia mentre prima parte dei consultori dei distretti periferici l'azienda è divisa in sei distretti vi ruotava sopra parte del personale medico ospedaliero adesso invece c'è del personale dedicato il numero dei consultori della provincia sono 25 non è calato negli ultimi anni e negli ultimi anni intendo da che io diciamo prima io lavoravo in ospedale ma comunque mi occupavo anche di consultori quindi diciamo dal 2007 da quando sono diventata almeno ero coordinatrice erano già questo numero qua quindi i numeri credo siano comunque diversi senza dire il bene e il male però insomma sono diversi l'attività consultoriale a mio giudizio da sempre ha una visione olistica della della donna e multidisciplinare quindi in questo senso vedo bene il consultorio iscritto all'interno delle case della comunità e a maggior ragione all'interno di un dipartimento di cure primarie cosa appunto che non avviene dappertutto ma visto che l'assistenza territoriale che si dice da sempre che va potenziata e abbiamo visto nel covid cosa è successo in realtà l'assistenza territoriale passa anche dalla medicina di base del consultorio il consultorio è innanzitutto un servizio di base per la salute della donna o certamente della famiglia del bambino quindi in questa visione anche proprio come dice il decreto ministeriale 77 di mettere la persona al centro quindi in questo caso la donna al centro e però nello stesso tempo anche di favorire una medicina proattiva una medicina di partecipazione da parte delle persone il consultorio credo che abbia questa un pochino veste nuova che forse andrebbe un pochino un pochino ripresa i nostri consultori alcuni sono nelle case della comunità o case della salute altre volte no preciso che questo l'ho preso il dato in regione Emilia Romagna sono presenti già 128 case della comunità sulle 500 presenti sul territorio nazionale e credo che sia un dato insomma anche abbastanza significativo mentre per quanto riguarda i consultori della regione oggi chiaramente i consultori che devono rispondere anche a nuove esigenze della società e penso soprattutto alle problematiche degli adolescenti che si sono sicuramente acquitte dopo il covid ma rappresentano un fenomeno trasversale presente penso dappertutto e infatti noi abbiamo aumentato il servizio per gli adolescenti la presenza degli psicologi per gli adolescenti e in alcuni casi abbiamo proprio lo psicologo all'interno della casa della comunità non solo rivolto agli adolescenti rivolto anche alle persone adulte naturalmente lasciando perdere il discorso consultorio cioè lo psicologo all'interno della casa della comunità e nello stesso tempo bisogna anche rispondere alle nuove esigenze di integrare e di far fronte e di comprendere le culture e i bisogni delle popoli migranti sia che siano regolari sia che siano irregolari in Emilia Romagna sono presenti 191 consultori familiari che sono più o meno uniformemente distribuiti accanto a questi 191 consultori sono presenti 37 spazi giovani che si occupano dei ragazzi dai 14 ai 20 anni e 18 spazi donne immigrate e i loro bambini negli spazi donne immigrate sono presenti anche la medicina interna però naturalmente è presente anche il consultorio a cui forniamo personale per l'assistenza alle donne comprese quelle nella ridistribuzione quando anche ci sono state le ondate migratorie che secondo la prefettura dovevano essere viste nel giro di 24 ore 48 ore se sbarcavano delle donne era nostro compito quindi non come volontari come ginecologi dipendenti in questo caso e osete che dipendenti che facevano la prima accoglienza di vedere queste donne spesso tra l'altro vittime come sapete di abuso e violenza nei campi quindi credo che sicuramente appunto condividiamo la presenza di multiprofessionalità all'interno dei consultori e sicuramente lo stesso spirito poi si declina semmai questo spirito in maniera un pochino diversa come abbiamo già avuto modo di confrontarsi il consultorio di reggio non si occupa di affide minori sono demandati alla servizio sociali neurosichiatria infantile abbiamo la presenza di quello che si chiama centro per le famiglie centro per le famiglie sono 42 regione sono istituiti per volere della regione dei comuni e si occupano anche di mediazione familiare minori e noi collaboriamo con loro per esempio nella fase del postpartum nel sostegno delle famiglie però non ci occupiamo direttamente degli affidi dei minori in regione c'è solo un'azienda a cui il consultorio si occupa anche di questo tendenzialmente sono divisi l'altra diciamo che il ruolo fondamentale che svolgiamo come consultorio a parte appunto prendersi carico del percorso nascita che rappresenta una grande fetta della nostra attività perché appunto seguiamo il 72% delle gravidanze sui nati vivi di questa provincia seguiamo appunto i giovani e la contraccezione contraccezione non solo rivolta ovviamente all'interno degli spazi giovani ma anche nelle fasi della vita successiva insomma a fine 45 anni e ci occupiamo molto anche per quanto riguarda tutte le condizioni multiproblematiche quindi presenza all'interno quando insomma si presenta la donna se ci porta alcuni bisogni non solo mettiamo casa abitativa che dobbiamo rivolgersi ai servizi sociali ma tutte anche le condizioni se sono seguite da cert servizio salute mentale per cui istituiamo delle unità di valutazione multiproblematiche in condizioni di particolare gravità prevenzione anche della depressione del postpartum che rappresenta un mandato regionale proprio un mandato dato alle direzioni quindi di attivare tutte di cercare di intercettare il più precocemente possibile le forme di depressione di disagio psichico perinatale assistenza alla coppia sterile perché comunque rientra non che ci occupiamo di sterilità ma quantomeno di indirizzarli di creare dei percorsi di rete di accogliere i bisogni delle donne che per esempio non riescono ad avere bambini che soffrono di endometriosi cioè semmai un primo step lo facciamo noi e poi ovviamente accediamo al centro ospedaliero e accanto a tutto questo credo che soprattutto anche così per ritornare alcuni argomenti già trattati sia il valore aggiunto credo la distribuzione gratuita dei contraccettivi che facciamo fino ai 26 anni i contraccettivi non intendo solo i contraccettivi ormonali ma preservativi abbiamo recentemente con finanziamento della regione anche preservativi femminili impiantiamo sia gli impianti sottocutanei che qualsiasi tipo di dispositivo intrauterino e sono appunto gratuiti fino ai 26 anni dopo invece soltanto nei posti WG o nel postparto in condizioni se hanno delle esenzioni o comunque anche se non hanno delle esenzioni in condizioni di disagio sociale o su segnalazione dei servizi o appunto dal CERT o del servizio di salute mentale comunque li forniamo gratuitamente credo che il valore aggiunto di dare la contraccettione gratuita sia enorme e non sia solo nei confronti della prevenzione e dell'interruzione di gravidanza ma rientri proprio in uno dei compiti principali del consultorio perché spesso queste ragazze più o meno giovani o anche non giovani che vengono in consultorio da noi la prima conienza è fatta sempre dall'ostetrica il nostro consultorio l'ostetrica ha un ruolo molto importante di relazione con le donne di relazione fra i vari professionisti un anello di congiunzione molto importante e ne riconosciamo il valore professionale e l'autonomia professionale dell'ostetrica è un modo proprio spesso per le ragazze di entrare in contatto con i servizi sanitari quindi questa accoglienza rappresenta un modo poi per poter loro dare gli strumenti per poter proseguire per potersi affidare per prendersi cura della propria salute al di là dell'aspetto contraccettivo abbiamo anche lo spazio sessualità e salute che si occupa di malattie sessualmente trasmesse a cui si può afferire sia per un semplice counseling sia per visite tamponi naturalmente in questo caso collaboriamo con altre figure professionali accanto a questo è a seconda delle diverse aziende nella regione è iniziata l'interruzione volontaria farmacologica nei consultori anche nella provincia di Reggio Emilia naturalmente però non tutti i consultori possono farla perché dobbiamo rispondere a delle particolari caratteristiche che devono avere i consultori quantomeno la riservatezza ovviamente e così come non ho precisato gli spazi giovani sono di solito collocati funzionalmente a parte in posti a parte e non mescolati con le persone adulte e a maggior legione le interruzioni di gravidanza vengono fatti quindi solo in alcuni distretti per dire ma questo vale in tutta la regione e facciamo l'interruzione farmacologica fino alla settima settimana in realtà adesso uscirà a giugno la nuova determina della regione e si pensava di farla anche fino alla nona attualmente per un po' paura degli effetti collaterali settima nona vanno in ospedale dove devo dire non hanno difficoltà nel farla però chi l'ha fatta in consultorio ha espresso visto che chiediamo il questionario anonimo di gradimento un certo gradimento per la riservatezza e l'accoglienza maggiore rispetto a un ospedale quindi interruzione volontaria e sempre con questa nuova determina si dovrebbe partire anche con la somministrazione dei farmaci a domicilio che è un'esperienza sapete che è presente solo in alcune regioni in Italia quindi appunto il Lazio un ASL in Lazio o qualcosa in Toscana quindi dovremmo partire con la somministrazione domiciliare e questa fase anche dell'interruzione in consultorio ha avuto un paio d'anni di fase diciamo di progetto adesso uscita dal progetto per esempio non so non potevamo fare le minorenne in consultorio adesso invece sarà aperto anche alle minorenne che naturalmente devono insomma darsi contezza di seguire i vari step per l'interruzione di ravidanza ma sarebbe uguale anche in ospedale quindi insomma direi che come aspetti particolari dell'attività consultoriale questo rappresenta sicuramente un aspetto importante che speriamo di implementare obiettivamente Molte grazie dottoressa Bertani di queste informazioni e di questa testimonianza e se siete d'accordo io passerei adesso la parola a chi vuole fare delle domande o dare dei contributi e quindi a voi prima di tutto del pubblico perché a distanza possiamo soltanto riportare delle domande nella chat quindi e non ce ne sono in questo momento non ce ne sono ancora va bene allora io passerei la parola a chi vuole intervenire sperando che qualcuno ecco benissimo allora quando venite dovete venire qua perché altrimenti non rimane né visto né registrato e presentatevi presentatevi dicendo il nome il cognome io mi chiamo Luisa Romanelli sono una farmacista in pensione oramai da tre anni ero direttrice di una farmacia comunale e poi vabbè faccio parte anche di sinistra italiana sono data anche a questa attività allora io volevo dire questo che vabbè a parte l'eccellenza dell'Emilia Romagna che è sempre un'eccellenza della sanità in tutti i sensi mi sembra di capire comunque che in Liguria a parte la riduzione dei consultori comunque sono ancora in vita e sani perché invece in televisione molto spesso fanno vedere nel Lazio in Umbria nelle Marche consultori che sono totalmente svuotati cioè quindi il ginecologo lo trovi una volta ogni 20 giorni l'ostetrica non si trova e lì allora ti domandi cioè siamo fortunati noi ad avere ancora un servizio funzionante perché sembra che nel resto d'Italia spesso non ci sia e poi un'altra domanda volevo fare sempre perché spesso fanno vedere anche in televisione questi provita che rispondono a delle domande sono sempre persone totalmente incompetenti che con la sanità non hanno niente a che fare e io mi domando perché questi li mettono a rispondere a delle domande così importanti sì no sono incompetenti totalmente io poi volevo dire una cosa nei consultori se una donna viene per fare perché pensa di voler fare un'interruzione di gravidanza e quindi ha bisogno della certificazione eccetera però se l'operatore con cui parla che spesso è un'ostetrica come primo step o direttamente col medico parla sempre con la donna quindi se la donna ha dei dubbi ha delle richieste da fare noi abbiamo il personale professionale cioè i professionisti quindi può parlare con lo psicologo può parlare con lo psicologo se ha dei dubbi o delle delle problematiche di natura psicologica può parlare con l'assistente sociale se ha bisogno di sapere qualcosa rispetto a non so ai diritti che potrebbe avere se porta avanti la gravidanza eccetera eccetera a livello diciamo economico sociale eccetera cioè le figure professionali che possono dare una risposta a questa persona sono già all'interno del consultorio quindi io credo che l'equip del consultorio sia in grado di di aiutare la donna a decidere se ha voglia di essere aiutata se ha già deciso deve semplicemente fare il suo lavoro che è quello che prevede la legge se la donna ha già deciso quindi cioè quindi questa mi sembra che queste figure che oltretutto non si capisce che professionalità potrebbero avere il fatto di appartenere a un'associazione non vuol dire che uno poi possa essere in grado di come diceva la la giovane utente possibile utente del consultorio possa essere in grado di affrontare un un momento di mettere il naso scusate in un momento così difficile così delicato che si arriva addirittura a arrivare a essere veramente un maltrattamento psicologico una cosa di questo genere volevo soltanto aggiungere una cosa mi chiedo ma con che perché sanno perché devono sapere chi è che viene in consultorio per fare un'interruzione di gravidanza ma chi glielo dice ma perché noi sicuramente no assolutamente no io lavoro all'Ajede ma all'Ajede nessuno sa per quale motivo una donna viene a far parlare con me ma non può entrare né chiedere ma noi non lo diciamo neanche al marito al compagno alla mamma al mamma al nonno a chiunque è venuta mia figlia non lo so non mi risulta non so non posso accedere alle nostre informazioni e questi qua perché dovrebbero entrare in consultorio e chiedere non solo all'Ajede ma anche in un consultorio dell'Ajede ma perché dovrebbero entrare e chiedere chi è che è venuta per fare un'interruzione di gravidanza ma non si capisce penso che la signora di cui si è saputo di Villa Scassi lei abbia chiesto proprio all'accettazione all'ingresso avrei bisogno di sapere avere delle informazioni e lì è stata eh sì è stata eh sì insomma vabbè con questa cosa del provviguita vorrei sapere come gli è venuto in mente di tirar fuori questa cosa vabbè Daniela Bertani ha chiesto la parola sì condivido tutto quello che avete detto anche perché appunto in consultorio se una donna esprime dubbi perplessità o si chiede se ci sono degli aiuti finanziari per esempio insomma noi di solito appunto eh anzi tante volte se ha dei dubbi parla con l'ostetrica parla con lo psicologo anzi molte volte prima di arrivare a me in ecologo che gli devo fare il certificato voglio dire sono l'ultimo step della catena quindi non è che non abbia modo di esprimere dubbi perplessità e noi abbiamo insomma nel limite sappiamo le difficoltà dei servizi sociali però nel limite di o se anche una dice so che esiste il movimento per la vita ci sono dei finanziamenti per BAC non gli diamo il numero di telefono cioè non è che voglio dire tra l'altro non riesco a capire per via anche della privacy che nei nostri servizi ci fanno una testa tanta cioè come in effetti queste possono venirlo a sapere oltretutto noi nel nostro anche programma di refertazione sono tutti dati oscurati per cui il mio collega ortopedico se questa signora un domani va a fare una vista ortopedico anche se andasse sul server dell'azienda non gli salta neppure fuori che ha fatto un'interruzione quindi non capisco com'è appunto questa cosa quindi insomma speriamo che siccome dipende comunque è vero che la legge è passata però dipende dall'azienda e dalla regione io parlo per la mia posso nutrire qualche speranza sono Mercedes Boy sono la presidente dell'AIA di Genova volevo dire che quando ho letto di questo emendamento al PNRR che prevedeva l'ingresso dei volontari del movimento per la vita nei consultori mi sono sentita profondamente offesa prima di tutto per il personale dei consultori che da anni fa questo lavoro benissimo con tutta la professionalità possibile richiesta del caso e mi sono offesa anche per le donne perché significa avere una mentalità che ritiene che la donna vada comunque tutelata perché non è in grado di prendere da sola delle decisioni e questo direi che al giorno d'oggi assolutamente non è così noi facciamo molti certificati di interruzione di gravidanza diciamo che nell'anno 79 il primo anno della legge a Genova nel nostro unico consultorio eravamo arrivati a fare 800 certificati per interruzione di gravidanza adesso ne facciamo mediamente 350 all'anno noi teniamo un questionario diamo un questionario alle persone che vengono per interrompere la gravidanza che ci ha permesso nel 2018 di riportare i dati di tutti questi anni su 22.000 questionari allora la la motivazione economica ricorre spesso le motivazioni però possono essere più di una tutte le volte che da un colloquio risulta che la motivazione economica è preponderante noi che siamo un consultorio che è più sessuologico diciamo che sociale inviamo l'assistente sociale del consultorio ci è capitato anche di dire per dovere di informazione che possono rivolgersi al movimento per la vita però la nostra esperienza è che quando si danno queste possibilità dicono sì sì c'è la ragione economica però ce ne sono anche altre per cui non ricorrono ad altri supporti se dovessi dire quali sono le differenze tra il consultorio pubblico e l'Ajad che ha comunque un'autorizzazione sanitaria e riceve le visite di controllo dalla ASL più o meno ogni cinque anni e ha più o meno le stesse figure professionali direi che tutte quelle che prevede la legge 405 all'Ajad si trovano però forse noi siamo più impostati sul problema contraccettivo che è stato il motivo della nostra fondazione sull'assistenza alle gravidanze ovviamente sull'assistenza psicoterapeutica e anche sulla sessuologia la novità nostra diciamo ce ne siamo sempre un po' occupati ma in questo momento abbiamo aggiunto dei servizi è quella di occuparci dei transessuali noi seguiamo anche perché ci siamo resi conto che essendo persone fragili erano spesso sfruttate e quindi abbiamo istituito questo servizio che funziona molto bene abbiamo l'endocrinologo abbiamo delle psicoterapeute dedicate abbiamo ovviamente i ginecologi e gli andrologi ecco cosa figura che il consultorio pubblico non ha e seguiamo tutto l'iter anche fino al tribunale diciamo così per il cambio di sesso una cosa che ha detto la dottoressa Battaglia che ci trova più o meno sullo stesso livello è quella dell'assistenza sanitaria che dopo dell'assistenza psicoterapeutica che dopo il covid è aumentata enormemente noi siamo passati dal fare circa 200 colloqui di psicoterapia all'anno a farne più di 300 abbiamo una lista d'attesa stiamo cercando una stanza supplementare perché noi abbiamo solo due studi dedicati e non possiamo assistere più che tanti mentre invece abbiamo avuto un calo di visite ginecologiche non per mancanza di richiesta ma perché non troviamo medici ecco stiamo lavorando con medici pensionati alcuni pensionati dei consultori pubblici però avremo bisogno di più medici tutte le ragazze le giovani ginecologhe che abbiamo preso ci hanno abbandonate perché hanno vinto un concorso nel pubblico e ovviamente fanno questa scelta la differenza fondamentale tra il consultore pubblico e l'AIAD è che all'AIAD si paga noi siamo un'associazione senza fini di lucro iscritti al registro del terzo settore ma ci manteniamo con i soldi che la gente paga abbiamo avuto contributi dalla regione fino a circa dieci anni fa ma da dieci anni non ne abbiamo più per cui se ci troviamo ad avere un bilancio in passivo dobbiamo aumentare le tariffe non abbiamo altra scelta però cerchiamo di fare una politica soprattutto per le giovani le ragazze sotto i 21 anni pagano per la visita medica 23 euro che sono molto pochi e abbiamo una percentuale di minorenni più alta di tutte le altre 18 sezioni dell'AIAD in Italia perché facciamo moltissima educazione sessuale l'educazione quest'anno ha fatto i conti da poco abbiamo visto quasi 500 studenti e andiamo nelle scuole tutto a carico dell'AIAD perché solo negli ultimi anni qualcuno ci dà un minimo di contributo che però non compensa e trovo che questa sia un'attività molto interessante cioè direi è il nostro fine statutario principale quello di occuparci dalle adolescenti anche per l'interruzione di gravidanza perché noi quando abbiamo minorenni che abortiscono con il permesso del giudice tutelare le accompagniamo all'ospedale e stiamo lì se hanno fatto l'intervento finché non vengono dimesse e con l'RU le accompagniamo più volte perché praticamente con l'RU vanno in ospedale quattro volte ecco e questo è un peso che però la nostra associazione si assume molto volentieri grazie grazie Mercedes Bo molto bene Antonio Manti ti presento grazie io volevo notare una differenza che appare subito agli occhi tra la nostra regione e l'Emilia-Romagna la dottoressa Bertani all'inizio del suo intervento ci ha raccontato come il consultorio a Reggio Emilia e mi sembra di capire in tutta la regione Emilia-Romagna sia all'interno della Casa della Comunità secondo me è una cosa notevole però vorrei chiedere alla dottoressa Bertani in particolare se lei il fatto di essere all'interno della Casa della Comunità quindi all'interno della nuova struttura di esistenza territoriale a contatto con le altre medici di famiglia eccetera porta dei vantaggi al lavoro del consultorio stesso e quali sarebbero? Allora non sono tutti dentro la Casa della Comunità perché non è presente dappertutto nella Casa della Comunità nella Casa della Salute diciamo la differenza fondamentale può essere però secondo me non è ancora del tutto esplorata questo per quanto riguarda le case della salute la collaborazione con i medici di medicina generale perché anche se mettiamo medicina generale ha un dubbio parlo di qualcosa di clinico ma anche non solo di clinico vede una donna in situazione di difficoltà di fragilità se siamo proprio vicini dice passa nell'altro corridoio e quindi indirizza verso il verso il consultorio e più diciamo dal medico di medicina generale verso di noi che viceversa devo essere sincera oppure all'interno delle case della comunità io parlo della mia di realtà perché quella che conosco come dovrebbe essere perché altrimenti è soltanto un cambio di nome le case delle comunità sono state fatte delle coprogettazioni all'inizio della fondazione delle case delle comunità cioè quando sono state costruite anche con l'associazione con l'associazionismo scusate col terzo settore con le amministrazioni locali e col distretto e ci sono dei progetti che si chiama community lab che sono sostenuti dalla regione in cui vede le diverse figure professionali che lavorano all'interno della casa della comunità su alcuni temi che non è detto che sia il consultorio c'è stato sul consultorio ma possono essere anche gli anziani per dire cioè anche altre cose credo che sia però ancora una cosa da da esplorare da aumentare in questo senso diciamo che la casa della comunità più grande che abbiamo reggio all'interno della casa della comunità abbiamo anche un cao quindi i cao sono i centri per l'assistenza all'urgenza che dovrebbe sgravare i pronti soccorsi dai codici bianchi e verdi quindi in questo caso può capitare che raramente le donne vanno al cao cioè è più facile che semmai vadano direttamente nei reparti però può capitare che vada direttamente al centro perché semmai è una cosa piccola ginecologica e quindi noi siamo lì perché insomma è una casa però non è che sia una cosa enorme credo che più che da un punto di vista clinico cioè fare le visite ti do l'appuntamento perché questo potrebbe essere il significato in realtà è la condivisione di alcuni progetti per esempio non so incontri alla popolazione che facciamo penso quelli che vanno molto sono gli incontri sulla menopausa che facciamo in una saletta dove chiaramente anche l'aiuto del medico di medicina generale può essere importante oppure parlare di prevenzione cioè in questi intanto io li vedo in questi ambiti In ASL3 i consultori sono in qualche caso nella sede del cioè nell'ambito più distrittuale ci sono anche all'interno della della casa di comunità in altre sedi invece no però diciamo che ancora siamo siamo in fase di di organizzazione ecco di queste di queste nuove realtà quindi quindi ancora dobbiamo capire in che modo dovrebbe funzionare tutto questo meccanismo posso scusa solo per aumentare la chiarezza il dottor il dottor bottaro è stato qua mi pare un mese e mezzo fa e ci ha parlato di due intenzioni di case della comunità una che doveva essere piazzata a quarto e una casa della comunità che doveva essere installata a Bolzaneto ovviamente come diceva la dottoressa Battaglia tutto è ancora in programmazione esatto con i ad esempio la questione di aver chiuso il consultorio di via Sarotti è proprio perché in via a Sarotti dovrebbe essere posta a funzionare una casa della comunità ecco questo comunque volevo fare questa domanda i consultori che sono stati indicati in 14 oggi stanno ognuno in un immagino distretto sanitario dei sei distretti sanitari e poi gli altri perché ovviamente sei sono ognuno cioè uno per il ponente uno in ogni distretto che i distretti genovesi sono sociosanitari sono sei in ogni distretto ci sono in media due sedi per esempio il distretto otto è a Pegli quindi dove nascerà la casa la casa di comunità e a Cogoleto e ce n'è uno di sede anche a Masone quindi sono tre nel distretto otto alla nove c'è a San Pierdarena e a Striponente sono due alla dieci c'è a Bolzaneto e a Ponte Decimo Alex Gallino però c'è una sede anche a Busalla in centro c'era solo Rivoli a Sarotti adesso c'è solo Rivoli c'è in San Frutto alla undici c'è alla dodici scusate c'è a San Fruttuoso quindi in Viarchimede e a Struppa e alla tredici c'è a Quarto e a Recco e poi abbiamo una sede anche in Viagnese che è sempre a San Pierdarena dove però ci sono non c'è non ci sono i servizi di base ma c'è il Nucleo Salute Scuola il Centro di Terapia della Famiglia un progetto che si chiama Crescere Insieme che facciamo insieme al Comune di Genova quindi le sedi sono queste c'è una sede principale sicuramente in ogni distretto in quasi tutte direi due a parte ora appunto che abbiamo perso quella di via Sarotti che comunque era una sede insomma molto importante perché è anche molto centrale eccetera quindi nel distretto undici attualmente ma momentaneamente c'è solo inviare i voli ho una domanda in chat Bruno quando pensi di inserirla Maria Teresa scusa non ho sentito mi dicevo ho una domanda in chat quando ritieni opportuno inserirla sì va bene io darei la parola a due persone che hanno alzato la mano sì certo certo quando vuoi va bene certo quando vuoi mi dici la lei io sono Stella Cerno sono responsabile di un'ente del terzo settore associazione che si chiama CEDU centro per l'educazione e i diritti umani mi ha fatto stare male sentire le cose che ho sentito oggi anche se le conoscevo ma un conto è leggere sapere leggere i rapporti e un conto poi è sentire empaticamente quello che ho sentito tra gli interventi appunto l'ultimo il suo e volevo capire una cosa allora sicuramente siamo all'interno questo è stato registrato anche da da studiosi di varia natura sul piano giuridico non siamo più nell'età dei diritti questo è evidente c'è stata una regressione negli ultimi vent'anni forse dal 2003 è stato confermato da più studiosi sul piano giuridico e la palla è passata alla società civile ringrazio moltissimo per i contributi che avete dato veramente c'è speranza nel senso che anche nelle istituzioni vedo che c'è comunque qualcuno là ed ha fatto miracoli veramente questo è è notevolissimo io su una cosa due cose volevo chiedere intanto non so esattamente che cosa si intenda con casa di comunità giusto la definizione poi se non si può io credo che già qualcuno forse qualche associazione se ne occupa se non si può già configurare un reato nella presenza dei come si chiamano gli pro-life che con gli operatori perché è violenza come dire non ho ancora ben capito è chiara non è stata la provenienza come mai dovrebbero essere tracciati per capire come mai vengono la ministra rocella come abbiamo detto prima è stata anche contestata per questo se ne è andata dall'incontro e giustamente gli studenti hanno protestato un qualcosa che ancora secondo me non è abbastanza sviluppato come dovrebbe l'educazione alla relazione anche se molti qua l'hanno alla relazione all'affettività alla consapevolezza di sé e quindi consapevolmente cioè chi viola i diritti umani come dire non è una persona che ha ben chiara come dire la differenza tra il rispetto per sé e per l'altro e non si conosce quindi io questa l'ho praticata nella scuola superiore elementare all'università adesso con gli studenti e quindi vorrei magari poi ne parleremo se possibile anche in un in altri momenti di come dire confrontarci su questi aspetti della là dove si possono fare per esempio io sono operatrice di un protocollo che si chiama Gaia protocollo Gaia del villaggio global validato scientificamente che fa veramente ha degli effetti veramente sorprendenti ovviamente sperimentandolo prima in prima persona sarebbe bello io lo farei per esempio anche gratuitamente quando lo faccio lo faccio gratuitamente nelle scuole o nei gruppi dei consultori per esempio attuarlo perché ha un grande effetto come dire di una grande risonanza e si seguono dei moduli è articolato per modulo sono 12 incontri in cui si affrontano anche tematiche relative ai diritti umani ma le si esperiscono quindi c'è una maggiore interiorizzazione dei valori che noi attivisti dei diritti umani ecco perseguiamo anche nella come dire perseguiamo sul piano mentale ma non magari anche su quello corporeo un'ultima cosa io sono anche referente stampa di Amnesty Liguria ci sono dei gruppi quindi lo segnalo anche sono molto attivi in Amnesty Liguria e a Genova con cui ci si può relazionare per trovare così come anche altre associazioni qualcuno ha illuminato il cesto quindi il terzo settore ecco quindi la società civile come diceva a suo tempo Giulietto Chiesa mi ricordo quando interveniva ai seminari sono gli anticorpi in questa fase che vede da una parte un'evoluzione della coscienza per molti sul piano mondiale globale quelli che si chiamano i creativi culturali che sono aumentati da decenni sempre di più quindi c'è uno sviluppo della coscienza ma dall'altra parte c'è una reazione contro come dire questo cambiamento che è già come dire in corso per cui ci risentiamo e ci aggiorniamo grazie per grazie presentati così rimango registrato mi presento così rimango registrato lo devo dire a quelli no volevo si chiama Mario Calvi ma non obbedisce agli inviti chiamo Mario Calvi e obbedisco agli inviti allora volevo come si può dire precisare completare offrire qualche spunto di riflessione qualche precisazione di carattere storico perché in realtà poi sulla storia dovremmo fare un ragionamento per vedere che cosa della vicenda di origine dei consultori che a Genova è stata una cosa entusiasmante e poi anche specifica diversa da altre esperienze giornali che cosa di quella storia si può trarre perché sia presente e utilizzabile oggi però invece sul piano strettamente storico cosa che non appare con chiarezza la legge nazionale attribuiva alle regioni il compito di fornire un quadro di tipo programmatorio e di indicazione diciamo delle linee guida e poi il primo finanziamento locale ma erano i comuni a dover istituire i consultori quindi legge nazionale legge regionale deliberazione del consiglio comunale prese diciamo secondo la maggioranza che governava i comuni ecco quindi atti formali e sempre con atti formali del consiglio comunale è stata regolata la partecipazione e l'organizzazione dei consultori che nel caso specifico ha portato alla costituzione di questi comitati che non erano comitati di gestione ma comitati di partecipazione i quali i comitati di partecipazione avevano dei compiti di proposta affiancamento delle equip tecniche nel gestire riunioni informative con la popolazione e poi di verifica e di stimolo sia nei confronti dell'equip e soprattutto nei confronti dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica questa cosa ha funzionato egregiamente comitati di partecipazione formati con elezioni alle quali partecipavano le persone che volevano partecipare non c'era l'obbligo però hanno partecipato centinaia di persone le elezioni erano organizzate nei quartieri e quindi questo ha consentito a molte persone interessate eh organizzate all'inizio in possiamo dirgli partiti non nel senso dei partiti politici ma partiti nel senso delle opinioni pro contro eh l'ideologia del consultorio pubblico eh partiti pro contro cioè quei difensori e quelli invece ostili che quindi hanno avuto la possibilità di manifestare persone volonterosi idee confronti ehm questi comitati facevano proposte le proposte venivano raccolte in assemblee eh venivano elaborate da un gruppo centrale di tecnici che faceva riferimento ai due enti che gestivano l'insieme cioè il comune e la provincia di Genova e poi venivano eh restituiti all'equip perché li validassero dal punto di vista della realizzabilità c'era un fortissimo confronto assembleare fra le persone elette nei comitati un fortissimo confronto nell'equip confronti molto conflittuali eh non pacifici non tranquilli eh molto conflittuali comunque capaci sempre di arrivare a delle sintesi costruttive per cui alla fine quei cinque anni in cui i consultori familiari hanno hanno vissuto sono stati anni di continuo arricchimento approfondimento e conoscenza cosa fondamentale di quell'esperienza è che le conoscenze passavano con una discreta facilità considerando il livello di partenza delle due parti sia quella tecnica rispetto al lavoro di equipe sia quella dei partecipanti considerando questo livello di partenza che era quasi zero questa cosa ha consentito un eccezionale scambio di conoscenze e competenze e quindi c'è stato un arricchimento della società della comunità nel suo insieme attraverso la costruzione di questo servizio e le prestazioni che erogava ecco questo aspetto della partecipazione che è finito con il passaggio dei servizi alle unità sanitarie locali alle unità sì che poi sono diventate aziende questa cosa che è finita è praticamente il modo col quale una struttura pubblica tecnica smette di ricevere impulsi da una popolazione consapevole attiva allora se dovessi fare una proposta a chi gestisce la sanità oggi visto che è impensabile un ritorno ai comuni che sono sicuramente più percepibili alle istanze popolari di quanto non lo sia le aziende sanitarie per ovvie ragioni se dovessi fare una proposta direi a dei dirigenti a degli operatori coraggiosi provate ad andare a cercare dei gruppi di persone che hanno bisogno del servizio dategli una mano a formare un collettivo e aiutateli a entrare in conflitto con voi sì mi rendo conto che è una cosa complicata però siccome l'ho vissuta per una ventina d'anni so che si può fare ecco non so perché parlo di questa cosa perché se non l'avessimo fatta sarebbe una simpatica fantasia una bella utopia da 68 che poi ha finito il suo tempo e secondo me non è così mi rendo conto lo dico soprattutto a chi ci lavora però va bene questo era il senso che si potrebbe rispetto ancora alla storia i consultori familiari non sono nati a Genova come consultori familiari alla dottoressa carta ho infelito un tormento di un paio d'ore la volta scorsa per spiegarle questa complicata storia delle vicende istituzionali sono nati come servizio integrato materno infantile insieme comune provincia perché i due enti avevano competenze in questa materia separate dalle leggi l'infanzia legittima toccava la provincia per esempio oppure alcuni aspetti i problemi della psichiatria per esempio che ha la ragione per cui poi ci furono i neuropsichiatri infantili nei consultori all'inizio e quello è un aspetto della separazione fra la psichiatria per adulti e la psichiatria per l'età minore che poi non riuscimo mai a superare adesso sento che c'è qualche tentativo quindi nacquero come servizio integrato ma per una ragione non che si volesse deprimere gli stanze allo specifico delle donne potete immaginare se l'amministrazione di allora e la spinta dei movimenti delle donne femministi avrebbe consentito che noi diciamo appannassimo o anacquassimo diciamo lo specifico femminile dei consultori si voleva invece qualcosa che adesso si sta tentando di rifare con questa cosa delle case di comunità delle case della salute a quell'epoca era molto chiaro che la persona che chiedeva aiuto a un servizio soprattutto se era una donna era il punto di partenza di questa vicenda si portava dietro i problemi del suo rapporto di coppia i problemi della sua famiglia i problemi di suo figlio i problemi del suo contesto e allora la risposta che si voleva dare sia i problemi di una situazione legittima in qualche modo normale sia quelli di situazioni al limite della normalità o fortemente diciamo a rischio in pericolo facile si voleva dare a questa donna che si rivolgeva al servizio pubblico una risposta si diceva integrata in modo che di fronte che quando avveniva la presa in carico non ci fossero barriere né istituzionali né organizzative se non strettamente necessarie perché la questione non venisse presa in carico nella sua complessità ci trovavamo di fronte non a un bisogno al quale dare una prestazione ma ad una persona facente parte di una famiglia di una comunità che manifestava le necessità sue del suo contesto della sua storia del suo futuro si voleva prendere in carico tutto per quello che è nato come servizio integrato con le donne i minori gli adolescenti le difficoltà le adozioni e tutto il resto qualcosa di questa vicenda rimane nell'attuale consultore genovese perché per esempio sentendo l'esperienza emiliana alla quale ovviamente ci leviamo sempre tanto di capello anche loro continuano a avere situazioni divise rispetto alle quali poi si compensa con una ricca diciamo rete di relazioni fra i servizi con la casa di comunità e con la casa della salute teoricamente sia l'accesso unitario sia diciamo l'integrazione fra i vari specialisti le varie esigenze dovrebbe essere facilitata quindi questa era la regione per cui allora si fece il servizio integrato il servizio integrato rimase integrato nell'81 quando per legge si dovettero trasferire i consultori alle unità sanitarie locali rimase integrato per scelta perché non si voleva spezzare quel tipo di prestazione interciata con tutte le professionalità ricordate che sono presenti ancora adesso che sembrava la migliore da dare alle esigenze delle donne e del loro contesto poi in seguito il comune ha voluto riprendersi le funzioni sociali perché all'interno delle unità sanitarie locali non avevano trovato un ambiente favorevole diciamo così questa cosa però ha riproposto il problema che tuttora esiste ed è tuttora risolto della cosiddetta integrazione socio-sanitaria e delle prestazioni a livello territoriale di prevenzione educazione sanitaria partecipazione quindi questo ultima precisazione che faccio la dottoressa carta ricordava i consultori di Cornigliano e ecco quelli lì quei consultori Villa Narizzano e Villa Spinola sono stati costruiti grazie al salario sociale però non li hanno costruiti le donne neanche gli operai sì no sì allora sì permesso non è permesso era come dire era dovuto che loro andassero ma ancora una volta è stato il comune attraverso un accordo con le organizzazioni sindacali a usare il salario sociale entrato nel suo bilancio del comune per ricostruire e ristrutturare completamente queste due ville che erano due casi di comunità perché c'era prevalentemente il consultorio e il servizio materno infantile e naturalmente le donne di Cornigliano e Sesti che erano state particolarmente combattive nel riuscire a ottenere queste cose avevano uno spazio diciamo particolarmente utilizzato ma non diversamente da quello che avrebbero potuto fare da altre parti perché lo usavano di più perché erano più organizzate più combattive e più decise avrebbero potuto farlo anche da altre parti ma non c'era diciamo la stessa spinta che comunque esisteva dappertutto ultima cosa che mi permetto di dire naturalmente sono infinitamente d'accordo sulla assurdità di questa presenza di rappresentanti delle associazioni per la pro pro life nei consultori familiari credo che si debbano trovare delle forme efficaci per contrastarla la cosa ovviamente la prima cosa da fare è gli operatori che non facciano spazio questa cosa che è una violazione dei diritti umani ma è fondamentalmente una violazione del fondamentale diritto alla riservatezza e alla tutela della propria individualità scelta anche segreta che una persona deve poter fare cioè non è in discussione secondo me e va combattuto con tutti i mezzi che si possono trovare in campo una parte la devono fare gli operatori una parte va chiesta alle organizzazioni sia all'azienda sanitaria locale sia per conto mio anche al comune che la deve smettere di disinteressarsi delle questioni della sanità perché fin tanto che si tratta della cura indubbiamente il comune non ha molto da dire ma su tutti i versanti della prevenzione dell'educazione sanitaria il comune avrebbe fior di competenze tuttora riconosciute dalle nostre leggi regionali bisogna che i comuni le esercitino perché ho insistito su queste delle cose primo perché la partecipazione è un elemento fondamentale per garantire un equilibrio di poteri fra operatori e persone che devono ricevere i servizi e un passaggio di conoscenze se non c'è l'atto sanitario è incompleto nessuno degli operatori sanitari in grado di valutare il successo del proprio intervento se in qualche modo coloro che lo ricevono in forma consapevole non sono in grado di restituirlo e la seconda è i comuni perché non vengono stanati da questo disinteresse dell'occuparsi diciamo così della sanità che mentre in passato sono stati gestori i comuni hanno organizzato la partecipazione dei consultori e hanno stabilito che si dovevano fare i lavori di equip e hanno consentito che nei contratti sindacali ci fosse il tempo per il lavoro di equip per il lavoro di ricerca per il confronto per la partecipazione pagati non volontari mentre il lavoro dei volontari lo facevano nei comitati di partecipazione mi sembra che questo possa essere anche un contributo per non lasciare questi giovani a combattere da sole una battaglia sacrosanta che non può essere una battaglia di giovani che sentono l'esigenza di tutelare i diritti difendere la privatezza chiedere dei servizi pubblici come si deve con tutto rispetto per l'AED al quale mi levo tanto di cappello per il meraviglioso lavoro che hanno fatto in questi anni grazie Mario Calbi ha come ha già altre volte dato tutto un background e un'eredità di riflessione adesso prima di tutto chiedo se qualcuno vuole ancora fare delle domande o dei contributi ah ecco esatto MT allora nel frattempo sono diventati due o tre la prima questione l'aveva posta Luigi Fasce parlando da psicologo consultoriale del periodo degli anni 70-80 che qui è stato ricordato dice di essere molto lieto che il servizio sia sopravvissuto a tutt'oggi tuttavia mi pare che sia all'umicino quindi chiede cosa possiamo fare per dare una mano come cittadini in questa fase preparatoria per le prossime elezioni regionali la seconda domanda che non è anzi c'è una domanda e poi delle considerazioni Maria Rosa Luigi chiede quali sono i tempi di attesa per i servizi presenti in consultorio e poi si ringrazia moltissimo Caldi per l'esauriente e utile intervento e concorda con Mario che recuperare la dimensione della partecipazione sarebbe indispensabile anche oggi e per il momento non ho altro molte grazie allora io ti proporrei di fare un giro breve di commenti e opinioni e andare verso la conclusione ovviamente questo enorme discorso della partecipazione e di come si fa la programmazione nella ASL insieme al comune insieme ai cittadini dei comitati lo dobbiamo affrontare in un altro momento perché ovviamente ci porta a parlare per diverse ore e devo dire non in veste di moderatore ma in veste di uno dei attivisti di questi comitati che è proprio quello che cerchiamo di fare cioè detta in parole più semplici svegliare e tirare la giacchetta a Bucci così come vogliamo tirare la giacchetta a Bottaro per ricordare che esistono i bisogni dei quartieri e dentro alle realtà di ciascuno dei sei distretti di Genova ma di tutti i 19 distretti della Liguria perché abbiamo anche comitati attivi alla Spezia e attivi a Imperia e ovviamente ci continuiamo a dar da fare e speriamo di farci ascoltare nel prossimo futuro comunque ricomincerei Scusa Bruno sono arrivate due domande in estremis le posso passare? Sì sì Allora Laura Camino chiede alla dottoressa Battaglia se esistono obiettori o obiettrici di coscienza nei consultori inoltre quali consultori a Genova hanno tutte le figure professionali previste e infine è vero che al momento le prenotazioni consultoriali devono passare dai CUP e se sì con quali tempi di attesa? Sui tempi di attesa chiedeva anche all'inizio Maria Rosa Luigi grazie grazie Allora le prenotazioni consultoriali possono passare passano dal CUP per quanto riguarda la visita ginecologica e i vaccini delle cioè le visite pediatriche comprese le vaccinazioni e i tempi di attesa cioè per quanto riguarda le vaccinazioni ovviamente come le vaccinazioni nel primo anno di vita hanno un cronoprogramma molto scandito e molto preciso quindi diciamo che al momento nonostante le difficoltà che abbiamo riusciamo riusciamo a vaccinare quasi tutti direi tutta la popolazione a parte quelli che ovviamente fanno la scelta di farla privatamente dal proprio pediatra quindi per quanto riguarda c'è proprio un cronoprogramma vaccinale che va rispettato quindi quello è vero che si prende tramite CUP comunque diciamo che c'è sempre una grande disponibilità e c'è anche un numero verde qualora non si riesca a prendere il l'appuntamento nei tempi previsti dal cronoprogramma vaccinale del primo anno di vita e per gli altri servizi e per gli altri servizi allora non c'è cioè all'incirca c'è un mese più o meno da aspettare in alcune zone e in altre anche anche di meno per quello che riguarda le le visite ginecologiche per quello che riguarda invece i psicologi noi abbiamo un CUP interno cioè le persone possono chiamare lo 010 849 6830 e al diciamo quest'anno è un nostro obiettivo dare il primo appuntamento alla famiglia entro 30 giorni dalla dalla richiesta che arriva quindi anche lì in alcune zone si riesce anche prima in altre arriviamo a filo perché insomma le richieste sono di più però questi sono i modi di prendere appuntamenti con gli specialisti poi ci sono invece anche la possibilità per esempio le ostetriche per quanto riguarda la gravidanza fisiologica fanno seguono anche loro anche direttamente delle gravidanze poi se ci sono delle problematiche ovviamente le mandano le mandano dal medico diciamo che siamo abbastanza in grado di non far aspettare dei tempi lunghi vi volevo salutare è stata una molto interessante dunque io sono arrivata a Genova nell'81 a fare la specializzazione mi sono laureata in un'altra sede io sono laureata in Toscana e qui ho cominciato ho lavoricchiato un po' nei consultori pubblici e ho cominciato in contemporanea a lavorare all'Aied di Genova e i consultori li ho girati un po' da Pra Sestri Molassana sono stata vabbè anche fuori Genova e comunque no erano dei consultori molto vivi erano gli anni 81 82 quando lavoravo un po' qui nei consultori e comunque vabbè poi all'Aied i tempi di attesa non ci sono puoi anche venire però si paga un minimo di ticket diciamo non è che cosa le donne accedono con la come dice la tessera cioè una tessera è un'associazione privata facciamo per le persone che non possono anche visite gratuite applicazioni della spirale gratuitamente gliela diamo anche insomma facciamo tutte queste cose qui quando ho cominciato a lavorare nei consultori qui di Genova il consultorio pubblico dell'Asl la contraccezione era gratuita avevamo le pillole avevamo le spirale avevamo veramente tutto adesso non lo so mi sembra che adesso non più va bene ok va bene vi saluto allora scusate scusate la dottoressa Bertani dice che ci deve salutare ah bene ok siamo quindi se vogliamo ringraziarla dottoressa se vuole dire alcune cose finali prego do la precedenza rispetto al resto no volevo no no io volevo solo salutarvi è stato un incontro anche per me insomma molto interessante per alcune cose e poi dopo insomma il confronto è sempre un valore aggiunto anche perché chiaramente le realtà sono diverse e ogni realtà porta porta qualche cosa al di là purtroppo delle difficoltà comuni compreso quelle del personale che ho sentito nominare anche anche prima e che comunque sapete come il servizio sanitario languisca di medici anche da noi insomma molti molti concorsi vanno da dipendente vanno anche deserti insomma quindi insomma questo è sicuramente un ulteriore problema che aggrava non solo il consultorio ma un po' tutto il sistema e niente vi ringrazio vi saluto e buon lavoro diciamo a tutti insomma a uno nel proprio ambito grazie a lei siamo noi a ringraziare a ringraziare la dottoressa e anche l'organizzazione che ci ha messo in contatto con la dottoressa prima la comunità che è attiva a Reggio Emilia e molto molto interessante tutta tutta la vostra esperienza come come si poteva già immaginare prima ancora di cominciare quindi buon lavoro e alla prossima occasione ancora per scambi ulteriori va bene grazie grazie dottoressa scusate ancora in chat mi fanno notare che la dottoressa Battaglia non ha risposto alla domanda se esistono obiettori o obiettrici di coscienza nei consultori e quali consultori a Genova hanno tutte le figure professionali previste allora non ci sono obiettori nel nei consultori e le figure i consultori che hanno tutte le figure previste sono direi Pegli Fiumara poi c'è Bolzanetto e Ponte Decimo in via Rivoli manca la pediatria perché siamo un po' abbiamo dovuto concentrare quindi la parte della pediatria purtroppo è andata a Fiumara poi in via Archimede e a Struppa e a Quarto quindi direi che uno per per distretto e invece in alcuni in alcuni distretti per esempio a Archimede e a Struppa ci sono tutte e due le figure professionali in entrambi i servizi così come a Bolzanetto e a Ponte Decimo volevo dire che sicuramente il confronto con mi spiace che ora la dottoressa Bertani sia dovuta andare ma il confronto che abbiamo fatto anche in modo preliminare con la dottoressa Bertani ha evidenziato che ci sono delle caratteristiche molto diverse sicuramente loro sono più focalizzati sulla salute della donna mentre noi diciamo che i consultori genovesi sono più focalizzati anche diciamo più sulla famiglia in senso generale e sui minori quindi questo è un aspetto che è che ci differenzia notevolmente e dalla parte loro sicuramente il fatto che loro diano farmaci anticoncezionali gratuitamente fino a 26 anni mi sembra veramente una cosa molto molto bella la verità insomma e poi quando ci sono dei motivi di fragilità o perché le persone sono seguite dai servizi che le le diano ancora fino ai 46 anni insomma fino all'età fertile mi sembra di nuovo un ulteriore un ulteriore valore valore aggiunto sicuramente il discorso anche del fatto loro hanno anche in più l'applicazione quindi il fornire la 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 pillola r u quindi lo fanno già anche in consultorio quindi questo è di nuovo un passo in avanti che hanno rispetto rispetto a noi noi a questo non ci siamo ancora arrivati sicuramente non lo so vedremo un po' come se sarà un obiettivo che che l'azienda si si porrà ecco poi noi sicuramente il taglio è diverso come diceva Calbi è storica la la differenza anche se poi ci sono diciamo in tante altre regioni con cui ho avuto modo di confrontarmi eccetera c'è qualche regione che è più ha un taglio più come il nostro qualche regione invece che ha un taglio un po' diverso come come l'Emilia Romagna allora innanzitutto io ringrazio il nuovo l'opportunità che mi avete dato di poter essere in questa sede e rimango sempre affascinata dalle parole del signor Calbi perché è una memoria storica quindi persone come lei sono preziose e la ringrazio per gli interventi che fa sempre che sono molto molto interessanti detto questo una cosa che ho detto prima è che io non lo sapevo appunto che i minorenni dovessero essere accompagnati in consultorio fino alla legge non lo sapevo quindi questa anche è una cosa esatto che per me adesso pensarci appunto proprio perché abbiamo tutti i diritti acquisiti e ci troviamo in questo bel mondo è impensabile ecco grazie a tutti Elisa MT hai qualcosa da domandare o da aggiungere altrimenti io andrei alla chiusura Laura chiedeva ancora oltre a ringraziare per la consultezza delle risposte se i tempi di prenotazione ginecologica possono venire abbreviati per la IVG no per l'IVG c'è l'accesso diretto immediato assolutamente cioè se una una donna si può non deve passare dal cup si può presentare direttamente in consultorio in qualsiasi giorno in qualsiasi orario di apertura ovviamente il consultorio noi siamo aperti dalle 8 alle 18 tutti i giorni a parte il venerdì che chiudiamo invece alle 14 però una persona si può presentare direttamente per l'IVG non esiste non esiste prenotazione c'è l'accesso diretto bene meno male che abbiamo infilato anche questa domanda è sì è chiaro che io sintetizzare in un quarto d'ora tutto quello che facciamo è un po' difficile però questa ha ragione era proprio una domanda importante grazie di avermi dato la possibilità di rispondere grazie arrivederci bene grazie a tutte e a tutti per essere intervenuti e il prossimo mese vediamo cosa vi proporremo come dibattito sulla casa delle comunità e il piano di ristrutturazione della medicina territoriale grazie a tutti